Proseguiamo con un brano originale per banda, composto da Jacob de Haan nel 1987 su incarico della provincia olandese di Groninga, per festeggiare il giorno della liberazione. De Haan scrisse questa fantasia sognando un mondo senza guerre, appunto un mondo libero. Questo è il primo di una serie di brani firmati da Jacob de Haan, nei quali il compositore olandese mescola sapientemente musica più leggera a musica più seria, in uno stile che ricorda la musica da film. Signore e signori, buon ascolto con Free World Fantasy. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.